Bello che te la faccia se sentite forte il microfono è che stavo praticamente con le cuffie un po' malmesse perché oggi ce le ho tutte malmesse, ma so che c'è della signora non è forte, ma ci siamo andati a roma di roma È solo che io vede qualche problemino Quale problemino? Il problema è che praticamente che io, che io, che tu Aspetta, ora mi senti? No Ora Ora Eh no, è che fa Ora No, aspetta Ora Come no? Non è possibile Niente Perché hai scritto che parla? Perché tu non senti Allora mi senti, vedi? Ha fatto Meglio di niente Povera Gabbiano Hai perduto mezzo quintale Ho perduto il bestiame Ah sì Ma sei in montagna? Certo Da quando? Eh da più o meno un mese e mezzo Povera montagna Povera montagna Mocca tutta la quinta Guarda una persona è gelosa Gelosa Dimmi che stai vedendo in questo momento Oh merda Viva la mamma Che fai? Perché cacci le persone? Ma scusa Hai il nome di un maschio? Com'è brava Marco non parla più Ho capito Ma chi sono questi due? Ho capito Vieni Aspettati Aspettati Ho bene Chi Ciao Marco Ciao 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 Ok Senza ammazzarci Senza ammazzarci Ok E' una mano di glu Eh? La cucina E poi Oh, e poi, e poi... Ok. Ci vediamo tra un minuto. Ah? Ho fatto una cosa che non dovevo fare. Cosa? Ma qua c'è la mia guzzi. Posso mettermi nella... Non ho capito. Guarda, mi metto qua io. Grazie, arrivederci. Mamma mia pagare qui ci vedo bene. Ami! Si. Francesca Romano, un tiro a che il tuo giupo è sul numero. Armi, lo immite. Marc,mail. Armi. Sarai! Marc se50. Anche. Ehm ehi. Scommetto che direi blu Allora Ma perché Perché io già ho detto nulla Va bene Va bene Ma tu hai tiktok? No La zona Caverna Foresta Quattro Oh ma che vuoi? Niente Ma tu stai live? Ma tu stai live? Eh? Io sei quella che guarda Ma che io che posso capire? Oddio 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 Oddio